L'ospedale Mazzini di Teramo è uno dei tre centri in Italia e nel mondo che per primo ha eseguito una ricostruzione dopo l'asportazione del seno per neoplasia utilizzando matrici dermiche rigenerative in 3D. Si tratta di nuovissimi biomateriali sempre più compatibili con i tessuti umani e che permettono di ripristinare esattamente la forma a goccia della mammella adattandosi alla perfezione alle protesi o agli espansori utilizzati. Una nuova frontiera della chirurgia e una speranza in più per le donne che tornano ad avere così un seno naturale dopo un intervento demolitivo come spiega il chirurgo plastico del centro di senologia del Mazzini Guido Torresini. Abbiamo avuto l'onore e anche l'onere di essere tra i primi in Italia e sicuramente primi in Abruzzo a trattare questa tecnica particolare. Si tratta di una ricostruzione con matrice dermica. Oggi la ricostruzione con matrici dermiche per il seno rappresentano il gold standard della ricostruzione. Vengono usate in moltissimi centri in Italia e nel mondo. In particolare questa è un'evoluzione di questa tecnica che come ho detto prima è usata già da Perichiani. Ovviamente noi in questo abbiamo una vastissima esperienza di questo tipo di interventi a livello nazionale ma anche internazionale. Questo intervento che abbiamo fatto a gennaio rappresenta come dicevo un'evoluzione di queste tecniche che permettono ancora di più di essere ancora più precisi e ancora più performanti nella ricostruzione del seno dei pazienti colpiti da tumore della mammella. Che cosa consiste in particolare? Si tratta praticamente di un materiale di derivazione animale che viene ovviamente adattato al nostro organismo tramite particolari tecniche che è stato creato diciamo in laboratorio considerando le tre dimensioni dello spazio e cioè la larghezza, la lunghezza e la profondità. Questo tipo di materiale così strutturato in 3D così detto permette di dare una forma perfetta al seno che viene ricostruito e evitando alcune complicanze che erano invece presenti e alcune caratteristiche che erano invece presenti con le tecniche precedenti cioè con la matrice dermica di tipo classico cioè rettangolare. Avendo questa la terza dimensione quindi il 3D si può adattare perfettamente alla cupola mammaria e ripristinare quindi soprattutto il polo inferiore della mammella della donna. Il centro di senologia dell'ospedale Mazzini di Teramo diretto da Maurizio Brucchi assicura trattamenti terapeutici personalizzati per il cancro della mammella uniti a tecniche di ricostruzione all'avanguardia. Il fine ultimo è quello di offrire alle pazienti una volta guarite uno standard qualitativo di vita paragonabile a quello prima della malattia.